Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video, ovviamente sempre Cristian Ciuffa qui con voi a parlare dei mercati finanziari, oggi la week view, ovviamente iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanina per essere notificati ogni volta che io sono in streaming oppure carico nuovo contenuto. Abbiamo una situazione di stasi riguardo le principali valute, ma volevo cominciare subito con il DAX che era al rialzo, questo ha fatto per quanto riguarda l'ultima scia rialzista, vedete dal 2019, 27 dicembre 2018, fino ai massimi di questo periodo, che parliamo appunto di luglio e quindi siamo in una scia completamente rialzista. Vedete come anche in questo momento si va al ritracciamento, siamo in una zona di massimi di periodo con un fine miniciclo, eccolo qui. Vedete quello che io vi avevo fatto vedere anche ieri mattina sul Morning Markets, vedete che continua ancora la scia, quella diciamo del pullback di questa azione del prezzo tra il 3 giugno e il 4 di luglio, quindi dai diciamo dagli 11.619, 6.20 ai 12.650. Quindi vedete come la media a 200 periodi va proprio a testare lo spike della candela a 11.614, quindi un rialzo che sa veramente di rimbalzo molto importante. Un rimbalzo che va in corrispendenza proprio degli 11.650, che sono una soglia comunque molto importante, vedete quante volte gli 11.650 siano stati appunto una soglia molto importante, ci siamo anche avvicinati, vedete ad aprile del 2018, vedete come è una soglia veramente forte, e quindi il prezzo ha rimbalzato ed è arrivato sui 12.650 dollari. Guardate adesso in questo momento ovviamente potrebbe il prezzo del DAX fare che cosa? Ritestare un'altra soglia importante che sono i 12.200 per poter poi proseguire con questa altra gamba rialzista fino ai 12.900 sui 13.000 punti che sono proprio quella resistenza dove vedete i 13.000 punti sono stati proprio quella resistenza testata moltissime volte anche dal mercato. guardate quanto i 12.900-13.000 siano proprio quella resistenza che vi dicevo dove è veramente il prezzo è andato veramente a rimbalzare più volte. questo ovviamente va, il DAX lo vedo molto vicino a quello che è il Fuzzemib che sono sicuramente, è in una fase di ritracciamento ma guardate come ritesta comunque un livello molto forte livello di prezzo che potrebbe ancora far continuare questo trend rialzista almeno fino ai 23.000 punti che sono quel, diciamo, il completamento del pattern armonico ecco questo Gartelay Pattern che proprio va a concludersi proprio in questa zona di resistenza e dopo ovviamente potremmo avere un ritracciamento prima eventualmente di giungere ai massimi cosa che io penso molto probabilmente. andiamo a vedere euro-dollaro che ovviamente sta ancora, vedete con questo, io vi faccio vedere questo testa e spalle di lungo periodo perché balza subito agli occhi questa affermazione totalitaria che ha avuto l'euro nei confronti del dollaro guardate come si è aggiunti su questi 12.000 dollari una soglia molto importante per un retesting, veramente un retest di questa zona appunto di supporto dove ovviamente io mi attendo il reversal verso almeno fino agli 1.15 come lungo periodo questo perché è dovuto anche da, vedete come il prezzo si sia fermato proprio sugli 1.11.2.50 guardate, questo è il trend, guardate come finisce qui, reversal, vedete come andare a prendere proprio questi massimi sugli 1.14 scusate e ancora pullback, un ritracciamento dopo questo doppio massimo quindi veramente una forte tendenza che ha rispinto anche perché è andata a rimbalzare anche sulla 200 periodi ora vediamo se il prezzo, se il momento del prezzo sia forte, favorevole su questo tipo di segnale rialzista e di inversione anche approcciando anche una divergenza RSI, eccola qui, ve l'ho anche scritto questa divergenza sui minimi rispetto al movimento di tendenza verso l'alto sul prezzo che potrebbe dare una conferma sull'inversione di tendenza dell'euro-dollaro voglio farvi vedere anche un altro aspetto importante che è l'australiano nei confronti del dollaro guardiamo come sta per giungere sul prezzo di 0.71.500, zona di arrivo e zona target anche rispetto a questo cipher pattern rialzista dove io mi aspetto poi un ritest intorno alla zona tra i 0.70 e i 0.71 e poi ovviamente continuazione del trend sull'azionario volevo farvi vedere Adobe perché Adobe è una di quelle aziende che sinceramente tutto sommato ha ritracciato come tutto il mercato americano ma guardate è arrivata però a testare a sorpassare la soglia dei 300 dollari, adesso ci troviamo intorno ai 315 dollari zona anche del 141% del periodo, proprio di questa cavalcata che ha avuto in questo momento Adobe adesso mi aspetto una continuazione di questo trend rialzista, anzi questo ciclo rialzista dopo comunque un earnings vedete che è andato comunque molto bene, ci aspettiamo gli earnings per il mese di settembre, vedete il 17 settembre quasi a conferma anche del dopo estate quindi sul riavvio totalitario del mercato dopo il cosiddetta diciamo flop diciamo così estivo diciamo più che altro quest'azione di meno liquidità del mese di agosto che comunque dà adito anche a rinverdire quella quindi a settembre quell'azione che potrebbe avere Adobe da qui a fine agosto volevo farvi vedere anche sull'azionario, volevo andare sull'azionario italiano perché volevo farvi anche notare un'azione di Brembo che è proprio in extremis diciamo sul vedete questo è diciamo l'azione di Brembo che guardate è andato a far chiudere questa candela proprio sul supporto sui 9,60 vedete zona anche confluente con il 71% vedete i 9,40 sono una zona molto forte riguardo appunto l'azione del prezzo in questo momento storico infatti notiamo anche una cosa molto importante che è quello appunto riguardante vedete questa azione del prezzo di Brembo che ha chiuso questo cipher pattern proprio sul 78% il cipher pattern che adesso ve lo disegno perché è aspettate eccolo qui questo è il cipher che si è venuto a confermare ovviamente con questa tendenza vedete con questo completamento ora mi aspetto un'azione almeno ad arrivare a ritestare l'area dei 10 e 34 euro bene con questo è tutto voglio solo concludere con che poi l'andremo a rivedere nelle commodities ovviamente che ci sarà più tardi anche l'oro l'oro che in questo momento è andato a ritestare nuovamente i 1425 dollari zona di ripartenza secondo me ritestare l'area di diciamo del breakout di questo triangolo ascendente per poter poi proseguire fino ai 1480 zona di primo target prima dei 1500 ovviamente e 70 1580 che è la nostra zona target di lungo periodo bene io vi ringrazio molto vi do appuntamento alle commodities le materie prime proprio nel pomeriggio nella sera di oggi nella serata di oggi quindi vi ringrazio molto buon trading a tutti da cristian ciuffa ciao ciao